perché sei poco aggressivo è quello che mi dà fastidio la barca non si muove come vorrei è troppo lenta si però il vedere prima le barche che arrivano da dietro ti prendono il buco le vedi troppo tardi quando se tu in laser non urli e uno ti perché ti arriva una prenderti il buco quello è il buco che lo prende è perché è perché quello che gli uli addosso è scappato di casa che gli fai paura con l'orlando gli addosso appunto ma quando sono scappati i professionisti gli uli addosso e ti aprono il c***o beh sì però li distrai capito ma che distrai cosa ti costa dirgli una roba in più ma non insultarli qui al mio posto ho pagato il parcheggio non sono tutti super professionisti tutti in partenza sono tranquilli abbiamo visto ieri quando eravamo così voleva un po di spazio sotto che giravamo sotto e poggiavi un po per stringerli questi non ti chiedevano a quello che si poggiavano i dirigenzi era una situazione di tre minuti ovvio che ti chiede da quattro volte o si forza un po di più e allora si ha anche più controllo su quello che si fa se no si è sempre un po e ma questo è un po' per me rullare in barca è una c***o perché primo si mette la situazione tra l'equipaggio secondo urli che non va bene ti agiti e dopo sbagli le mani offre la comunicazione nell'equipaggio parte ancora prima di iniziare la regata ok quindi è importante dividersi i compiti sapere che ognuno responsabile del suo piccolo dipartimento anche già a terra la corrente può tranquillamente essere considerata una variabile aggiuntiva del gioco che state giocando e le variabili sono il percorso gli avversari guardate per favore gli under 23 dove vanno cosa fanno la corrente complica il gioco perché mettiamo una quarta variabile come avete visto all'inizio è però quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare direi che voi lo siete per cui è un gioco più difficile ma è chiaramente più difficile e più ci sono possibilità di far bene in bocca al lupo mettendo alla prova a lavorare in un team cercare di essere al top anche con altre persone a bordo il volante lo gira e chi ha i pedali i pedali li abbiamo noi poi sono il volante quello che voglio tirar fuori da questa esperienza è imparare sicuramente com'è la dinamica all'interno di un equipaggio anche di professionisti stiamo crescendo tanto insieme e ci stiamo divertendo veramente molto è solo un obiettivo ed è quello di arrivare davanti agli altri io ti ho detto che ero d'accordo a virare ma non lì ho capito perché nessuno merito no c'è la barca su hai virato su hai virato secondo me te la sei presa perché ti abbiamo fatto notare un errore ok te la sei presa perché ti abbiamo fatto notare un errore e adesso stai chiamando c'è non esiste un vero e proprio leader il leader secondo me è il nostro obiettivo è quello quello qua si vede veramente si nota che c'è gente che ha un'esperienza fuori da ogni limite inizia a salire sali 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 I metali? Bravo! Piore attivi con un colorante. Ah, ecco qua! Oh, ecco qua!